Due anni che aspettavo questo momento, due anni, e non posso skateare, però già se ad essere lì sarà incredibile. Cerchiamo di seguire consigli di cicalone su come non farsi rapinare il metro. Let's go, let's go, andiamo al di bordo della musica. C'eravamo già stati due anni fa insieme, abbiamo schiedato con dei protalad fortissimi. Sono super gasato perché hanno aggiunto un sacco di strutture. Eccolo, siamo arrivati al ponte della musica. Nato non ufficialmente una decina di anni fa, ospitava un teatro all'aperto mai utilizzato. Ciò che è affascinante del ponte è che gli skater romani se ne sono impossessati e presi cura fino a venire accettati dalla città stessa. E dopo più di dieci anni di sforzi, le fragile rampe in lamiere e legno si sono evoluti in solido cemento. È stilosissimo. Ci tengo a precisarlo però, tutto grazie agli skater. Ecco finalmente il ponte della musica, uno dei miei skate spot preferiti, se non il preferito in assoluto in tutto il mondo, in tutti i park, in tutti i spot dove sono stato. Questo, per le vibes che ti trasmette, per le strutture, è veramente, secondo me, uno dei migliori dove possiate skateare. Se conosci o skate in un altro spot come questo in Italia, scrivilo in un commento perché sono curioso di venire a skaterlo non appena potrò. Questa è la situazione della mia caviglia oggi. Non buona, per niente. Ma questo non mi fermerà da raccontarvi lo skateboarding. Ho in serbo un sacco di progetti, tipo il secondo drop delle magliette, ma vedrete tutto a settembre. Rispetto a due anni fa, quando vi ho portato con me, hanno inserito nuove strutture come la canadese in fondo, i walley jersey con il rail. Ma anche Polgem rifatto il quarter e un nuovo box. Questo è un rail che c'era nell'SLS, quindi, insomma, si è evoluto tantissimo, migliorato tantissimo, ma la cosa che mi fa impazzire di questo park è che la sua anima street DIY rimane, perché tutte le strutture sono comunque fatte a mano da skater per skater. Raga del ponte DIY, se state guardando questo video, vi adoro, vi amo, perché alla fine è solo dovuto alla community di skater che vive Roma, che ha creato questo posto, se ne è impossessato e ci sono uno dei posti incredibili del mondo. Mamma mia, quanta gente forte c'è oggi, raga! Guardate chi è venuto a riscaldarsi giusto prima della finale. Raga, voi non avete idea di quanto sia grosso dal vivo, c'è tipo 130 kg di musco. Era tipo second drive, ok, tutto il resto per drive, ok. Wow!!!! I don't know who they are I met them at my bar They bought a couple rounds Said they wanna see my house I guess I said ok Is a drag Is a drag No, it's a blast It's a blast C'è una quantità di skater senza senso Veramente veramente tanti E tra di loro ci sono tantissimi pro O comunque molto forti Alcuni anche pro storici La cosa divertente è che skatano quasi tutti il box e basta Toccano anche gli altri ostacoli Ma quel box è troppo figo per non essere skatato C'è anche qualche pazzo con i ragazzi della South Crew Che si sono messi a skatare quel rail incazzatissimo Avevo paura solo a guardarli Andate a vedere quello che fanno perché spaccano e meritano Ma tutto questo è dimostrazione del fatto Che ci sono tutti i livelli E non puoi sentirti in difetto Perché ti ritrovi a provare mille try Esattamente come i finalisti mondiali di skate Insieme Perché lo skate è anche questo Non esiste essere più o meno skater Lo si è e basta E si skate insieme sotto lo stesso tetto O forse è meglio dire ponte O forse è meglio dire ponte Spero di avervi fatto vivere questo spot al meglio Che soprattutto in questi giorni diventa un punto di incontro per skater da tutto il mondo Ed è incredibile perché vengono ad allenarsi qua a riscaldarsi qua per i mondiali Che è esattamente dove stiamo andando Ma quello è un altro video Aspettatevelo se non è ancora uscito perché magari è uscito prima di questo Ma veramente sono contento di avervi portato qui perché non è potuto essere a Roma in questi giorni Che la fanno veramente diventare capitale dello skateboarding Perché davvero quando cavolo ti capita di skitare con skater storici pro incredibili Per cui raga spero che questo video vi abbia trasmesso le good vibes che ho vissuto io al ponte della musica Se così fosse un commentino e un like per aiutare il canale mi farebbe super piacere Ci vediamo ai mondiali guys Sarà incredibile Peace Non potrebbe andarmi meglio Su Pli e Ponte della Musica Cosa voglio di più dalla vita?